benvenuti ad app per prof un'app in cinque minuti appena ovvero una vetrina non un tutorial che introduce sinteticamente strumenti tic per i docenti 3.0 ben trovati a tutti quiz netic è una web app gratuita per la creazione di quiz interattivi su un tabellone condiviso fino a un massimo di 30 studenti si creano varie tipologie di domande aggiungendo anche contenuti multimediali come immagini o video da youtube è inoltre possibile aggiungere un feedback alle risposte fornite dagli studenti simile ad applicativi più famosi come quiz it's e naturalmente caout oltre a costituire una valida alternativa quiz netic crea un ambiente di gioco differente grazie alla plancia che lo trasforma in una versione interattiva dei giochi di percorso come il gioco dell'oca per intenderci la condivisione avviene da qualsiasi dispositivo inserendo il codice d'accesso univoco e alla fine è possibile raccogliere risultati tramite un foglio di calcolo da parte del docente ma andiamo senz'altro a introdurre l'applicativo dalla home page di quiz netic procediamo con la registrazione oppure con il login nel caso in cui fossimo degli alunni pronti a giocare l'attività dell'insegnante selezioneremo join again eseguito l'accesso avremo a disposizione una serie di intuitive funzioni tra cui la possibilità di cambiare i dati del profilo o di accedere a un piccolo tutorial ma nella colonna a sinistra avremo le principali opzioni ovvero sia il game manager repository di tutti i giochi che abbiamo realizzato la possibilità di visualizzare quali giochi sono attivi question bank e l'insieme di tutte le domande che abbiamo realizzato e possiamo ricomporre make a game per procedere alla creazione del nostro primo gioco e l'accesso ai giochi pubblici ovvero sia quelli realizzati dagli altri utenti che sono messi a disposizione selezioniamo make a game anche l'interfaccia è molto semplice ci dà la possibilità di creare prima il tabellone e in un secondo momento le domande in alto la possibilità di salvare e di renderlo pubblico o visibile soltanto ai nostri alunni semplicemente selezionando questa icona come una cosa consiglio di dare un titolo aggiungere una breve descrizione e caricare il tabellone di gioco possiamo caricare liberamente dall'esterno selezionando risorse senza diritti d'autore oppure realizzarlo con un'altra applicazione per poter creare qualcosa di originale caricato il tabellone procediamo con l'inserimento delle caselle ovvero sia quegli spazi che daranno l'accesso alle domande e creeranno la vera intelliatura del gioco selezioniamo le caselle quadrate square oppure circolari naturalmente non cambia nulla soltanto una questione estetica aggiungiamone una quadrata una volta creata la possiamo posizionare dove vogliamo all'interno del tabellone in questo caso andiamo a coprire i numeri che abbiamo già sulla immagine di sfondo a mano a mano che creeremo le nostre caselle verranno numerate con un numero progressivo ancora è importante decidere come agire sulle caselle ovvero sia come si muoveranno i nostri alunni in base alle risposte che daranno possiamo indicare che si muoveranno da 1 a 6 oppure in base ai punti legati al tipo di domanda o in modo casuale da 1 a 6 consiglio di dare un peso alle varie domande per rendere il gioco più interessante allo stesso modo possiamo decidere che ci saranno delle penalità in caso di risposta sbagliata una volta realizzato il tabellone procediamo con la creazione delle domande selezioniamo questions anche l'interfaccia per la creazione delle domande è molto semplice e intuitiva possiamo procedere prima di tutto con l'individuare che tipo di domanda vogliamo creare se a scelta multipla oppure con un input numerico ovvero se la risposta sarà un numero oppure con una risposta breve quindi con una sola parola che andrà inserita direttamente dagli alunni scegliamo scelta multipla inseriamo qui il titolo della domanda e possiamo anche aggiungere un spunto un stimolo possiamo anche aggiungere uno stimolo visivo immagine oppure un piccolo video andiamo a selezionare le risposte naturalmente selezionando quale sarà la corretta e inserendo il punteggio numerico che ci permetterà quindi di avanzare sul tabellone molto importante la possibilità di aggiungere un feedback ovvero sia dare agli alunni che hanno sbagliato la possibilità di imparare qualcosa tra il feedback anche la possibilità di aggiungere un'ulteriore immagine terminata la domanda ne possiamo aggiungere quante ne vogliamo a seconda dei limiti del tabellone e salvare il gioco terminata la nostra attività lo troveremo nel repository game manager e possiamo procedere con la modifica oppure cancellare vediamo quindi un esempio già realizzato selezioniamo il triangolo verde che ci dà l'accesso da parte dell'insegnante alla nostra attività avremo un codice che dovremo condividere con gli alunni che si collegheranno con il proprio dispositivo personale sulla destra abbiamo la visualizzazione di un cellulare con la possibilità di scegliere giorni a game e inserire il codice scegliamo un nickname e siamo pronti per giocare verranno quindi visualizzate le varie domande abbiamo risposto in modo incorretto quindi il nostro avatar che abbiamo visualizzato qui al punto di partenza non si muoverà né avanti né indietro ma abbiamo la possibilità grazie al feedback che c'è dato l'insegnante di imparare qualcosa ecco che viene data qual è la risposta corretta ma anche la motivazione di questa risposta e questo è tutto quiz netic aggiunge una nuova funzione di gaming ad applicativi conosciuti e rodati come caute quiz it il tabellone infatti oltre a rendere più dinamico il gioco permette di visualizzare classifiche obiettivi in modo più diretto giocate a squadre con gli alunni della vostra classe senza dimenticare di fornire un feedback per le risposte in modo da trasmettere contenuti e facilitarne l'apprendimento sfruttando appieno la motivazione di questo approccio ludico vi invito a provare quiz netic e vi auguro un buon lavoro alla prossima